buongiorno benvenuti a tutti siamo diciamo un nuovo webinar dei fast dell'ambito a verso la transizione digitale progetto che conoscete e che diciamo da ormai un anno sta accompagnando i piccoli comuni in particolare sono siete in 285 piccoli comuni verso la transizione digitale come lo stiamo facendo stiamo stiamo affiancando i vostri funzionari i vostri referenti con delle task force che lavorano con voi sul territorio per realizzare alcuni micro progetti che riguardano appunto la transizione al digitale prima di far questo ovviamente facciamo con voi una fotografia di quella che è la situazione del del comune e quindi di qual è il grado il livello di digitalizzazione dei servizi del vostro comune e poi insieme diciamo decidiamo su quali priorità diciamo su quali cose lavorare insieme con questi micro progetti questi webinar che stiamo facendo questo è un secondo ciclo di webinar e li stiamo facendo ovviamente per accompagnare diciamo alcune tematiche per accompagnarli su alcune tematiche diciamo che sono di interesse e anche per per approfondire alcune questioni che riteniamo nevralgiche non solo diciamo per tutte le amministrazioni ma in particolare anche per voi diciamo per i piccoli comuni e oggi parleremo e con michele rianello delle potenzialità della piattaforma nazionale dati non solo dello sviluppo di npr ma diciamo di quelle che sono le opportunità per i piccoli comuni di utilizzare la piattaforma nazionale dati e anche diciamo è un modo la piattaforma digitale nazionale dati nasce diciamo da una prescrizione normativa già presente del CAD ma diciamo questa questa cosa è stata anche rafforzata anche da recenti direttive del dipartimento della trasformazione digitale che cosa diciamo consente consente diciamo di attuare quel principio diciamo uno di attuare un'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione e di attuare finalmente diciamo quel principio di cui da tanti anni si parla del one solid cioè la modalità secondo la quale diciamo un non è necessario che un cittadino produca documenti diciamo che sono già in mano a pubblica una pubblica amministrazione che la produca diciamo per altri per altre diciamo casistiche per altre cose quindi questo è un modo diciamo per rendere i servizi diciamo resi alla cittadinanza in qualche modo sicuramente più efficaci e più veloci oggi ce ne parlerà appunto Michele Vianello che avete già avuto modo di conoscere in precedenti webinar che è il nostro consulente senior sul tema della transizione digitale e abbiamo segnalato qui in queste slide che poi troverete sempre nella solita pagina sul nostro sito Formez di territori in rete troverete anche l'intervista che è un altro nostro consulente Claudio Forghieri che avete già conosciuto in precedenti webinar che ha appunto intervistato anche portato alla testimonianza anche di amministrazioni che hanno partecipato ad alcuni nostri webinar ha fatto a Michele Vianello e diciamo che è un po' una sintesi di quello che sarà detto in questo webinar e quindi alcuni diciamo stimoli che potrete insomma anche proporre insomma e dare segnalare anche ad altri vostri colleghi che oggi non partecipassero a questo webinar darei quindi la parola a Michele che naturalmente ringrazio e buon webinar a tutti ci vediamo tra poco un attimo che andiamo alle slide perfetto bene benissimo buongiorno a tutti grazie Irene grazie a tutti voi oggetto della chiacchierata di questa mattina anzi di questa tarda mattinata è il tema della piattaforma nazionale dati perché è nata la necessità di fare questo webinar con voi partiamo intanto da questo primo punto motivo è molto semplice negli incontri con voi voi piccoli comuni ma è un tema anche abbastanza allargato lo trovo anche in comuni di maggiori dimensioni eh quando parliamo del bando PNRR eh destinato alla piattaforma nazionale dati eh io eh chi mi conosce sa che non mi trattengo di così benissimo prendete i soldi del PNRR però voi sapete cos'è la piattaforma nazionale dati e soprattutto qual è l'utilizzo anche strategico della piattaforma nazionale dati e quasi sempre eh non lo sapete e quasi sempre vi affidate al fornitore sì ma l'ho detto al fornitore Giovanni Giuseppe Giacomo no perché è lui che mi risolve sta cosa e questo onestamente non va bene perché come vedrete nel corso dei prossimi anni piattaforma nazionale dati sarà assolutamente strategica sarà uno strumento di lavoro uso proprio il termine strumento di lavoro assolutamente indispensabile per tutte le pubbliche amministrazioni eh poi se qualcuno di voi avrà la bontà la tempo di andare a vedere l'intervista che Claudio Forghieri mi ha fatto sulla piattaforma nazionale dati li vedrete che eh ben sollecitato da Claudio indico eh molte applicazioni pratiche eh delle quali potete fruire attraverso piattaforma nazionale dati quindi eh vorrei dedicare questo questo spazio di tempo a spiegarvi bene vedrete una prima parte di basi normative però già lì un po' di pratica comincerò a mettervela poi un bel po' di esempi pratici poi a un certo punto uscirò dalle slide e vi porterò nella piattaforma eh tal che ognuno di voi poi copierà il link e eh sarà peraltro trovata nelle slide che proietto questa mattina e vi consiglio davvero di frequentarlo come ambiente perché vi verranno svariate sollecitazioni no ora partiamo intanto dalla base normativa primo punto è eh basi normativi e regolamentari perché tutto tema della piattaforma nazionale dati è eh regolato dalla oltre che da eh direttive di eh Agid linee guida di Agid soprattutto quella sull'interoperabilità e così via è eh normato dal codice dell'amministrazione digitale sono quelle parti di CAD che pochi leggono e però eh insisto oggi sono quelle che eh dobbiamo cominciare a conoscere bene il primo primo eh articolo è 50 ed è come vedete un eh un indirizzo di ordine di ordine generale no? I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati raccolti conservati e resi disponibili quindi non basta eh formarli raccoglierli e conservarli bisogna anche renderli disponibili ed accessibili e ecco qua tutti questi dati devono essere fruiti ma anche riutilizzati quindi dovete pensare che ogni volta che voi mettete a disposizione un vostro dato voi lo mettete a disposizione perché sia riutilizzato da qualcun altro questo già risponde a un primo interrogativo ma a cosa serve la piattaforma? La piattaforma serve per riutilizzare dati. Il cittadino esempio tipico perché sarà uno dei consigli delle cose che vi dirò da attivare no? Il cittadino lascia nel sito dell'Inps i dati che compongono il suo Isee. Il cittadino non deve ridarlo a voi l'Isee. Inps mette a disposizione di tutte le altre pubbliche amministrazioni il riutilizzo quindi l'Isee che sono state compilate dal cittadino. A cosa serve? A far sì che ogni comune sia in grado di verificare se il cittadino ha i requisiti per chiedere un qualsiasi contributo quindi fruizione e riutilizzo quindi dove dovete pensare alla piattaforma nazionale dati che vedremo fra un attimo come il grande luogo di fruizione di riutilizzo dei dati che ognuno di voi che ogni pubblica amministrazione nella sua attività istituzionale crea. Entrate subito in questa logica. È un grande luogo di scambio e di fruizione. La norma generale è questa, l'articolo 50. Poi vedete qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali è reso accessibile e fruibile. Nel rispetto dei dati in materia di protezione dei dati personali è che ogni volta che voi accedete ad alcune di queste banche dati i primi sei NPR alla quale dedicherò un po' di spazio nel corso della mattinata deve ovviamente fruirne però rispettando tutta la normativa in materia di protezione dei dati personali. Quindi poi vedrete che prima di fruire ad una base dati messa a disposizione via piattaforma non solo dovrete dire i motivi istituzionali per i quali chiedete l'accesso. Toc toc perché vuoi entrare a casa mia e devi elencare i motivi istituzionali. Ma una volta che tu ci sei entrato devi impegnarti, registro trattamento dati, a utilizzarli proprio per una funzione istituzionale. Io voglio vedere in NPR se il nucleo familiare di Michele Vianello che ci sta chiedendo una casa popolare è davvero composto di tre persone, quattro persone, cinque persone. Quindi dichiaro un motivo, vado a vedere il nucleo familiare di Michele Vianello dato assolutamente sensibile personale, anche perché ci sono dati di minori e così via, e nel registro trattamento dati dirò le motivazioni per le quali io ho chiesto di accedere alle basi dati degli altri. Quindi cominciate a ragionare su questi primi punti. Vedete, è reso accessibile e fruibile dalle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente. Vado a vedere la famiglia di Michele Vianello, non perché sono interessato a Michele Vianello in sé, ma perché mi serve per precise funzioni istituzionali. Poi quando parleremo di NPR vi farò vedere le disposizioni del Ministero dell'Interno sulle funzioni istituzionali dei comuni. Ok? Naturalmente vale che se mi esprimo male, se ci sono problemi, siete liberi di alzare la manina e di chiedermi spiegazioni anche subito, non aspettate la fine. Se ci sono punti non chiari, ovviamente internet. Però l'articolo 50 è un articolo di principio, no? Ma com'è che davvero i dati delle pubbliche amministrazioni vengono resi disponibili? Non è gli open data, per capirci. Queste sono grandi basi dati a NPR, questo è uno, no? Per capirci. Com'è che questo avviene? Questo avviene attraverso l'articolo 53 del CAD. L'articolo 53 del CAD è quello che vara la piattaforma nazionale dati, quindi la presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi capite l'importanza? Questa attività è in capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione, ovviamente la realizzazione come vedremo poi è già avvenuta, di una piattaforma digitale nazionale dati PDND, finalizzata a favorire la conoscenza, vedete che torna il tema, e l'utilizzo del patrimonio informativo. Tutto ciò che voi producete è patrimonio informativo e ovviamente si ribadisce per le finalità istituzionali dei soggetti, ma non solo, anche per semplificare gli addempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese. E qui entra il famoso principio once only. Come voi sapete ormai da un po' di tempo nella giurisprudenza comunitaria e nella giurisprudenza italiana è entrato questo principio once only. Once only è una volta che un cittadino ti ha dato un dato, un'informazione, ti ha dato intendo alla pubblica amministrazione, non si può più chiederglielo. Il cittadino ha dato all'Inps tutte le informazioni in materia di Isee. Il comune non può più richiedergliele. Il comune va a beccarsele direttamente in Inps. Il comune chiede al cittadino la dichiarazione di essere a posto da un punto di vista reddituale. E il cittadino dirà ok io sono a posto, ma poi la verifica, il comune la fa direttamente con l'Inps, una volta sola. La norma peraltro prevede che nel momento in cui un cittadino, il caglio, ha lasciato un qualsiasi documento banale o ha prodotto un documento ad una pubblica amministrazione, non è più onere del cittadino conservarlo. Se mai lo conserva la pubblica amministrazione, dice la norma, in ogni momento lo deve mettere a disposizione del cittadino. Quindi once only e il fatto che è l'amministrazione che conserva il digitale per conto del cittadino. Capite che si è rovesciato un po' un mondo. Prima il cittadino aveva l'onere di conservare tutto e di esibirlo a voi, non è più così. Lo esibisce una sola volta ad una qualsiasi pubblica amministrazione. È compito delle diverse pubbliche amministrazioni mettere in relazione fra di loro, creare, come vedrete, viene proprio definito, un vero e proprio ecosistema di dati. Nell'intervista voi vedrete che io paragono la piattaforma nazionale dati al cuore e le diverse basi dati arterie e a vene. Ma la piattaforma nazionale dati è il luogo, il cuore che pompa questo flusso di informazioni. Non la sto mettendo in modo eroico, perché è effettivamente così e vi rende anche più semplice ovviamente comprendere questa motivazione. E qui si definisce che cos'è. Vedete, si usa lo stesso termine che ho usato io. È costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi dati delle pubbliche amministrazioni. Non importa chi è il vostro fornitore, non importa chi voi utilizzate per preparare basi dati, per generare basi dati. Tutte le basi dati devono parlare fra di loro, devono essere interoperabili. Vi farò vedere poi degli esempi concreti da porre ai vostri fornitori. Vedrete uno ad esempio riguarda proprio i siti. Bando PNRR14.1. Proprio ve lo faccio perché è una cosa che quando faccio queste visite a voi per conto di Formez ribadisco sempre. Proprio l'esempio che uso molto. Vedrete, è uno degli esempi che utilizzo di più. Come avviene l'interoperabilità dei sistemi? Vedete che è l'interoperabilità dei sistemi informativi. Non importa che un sistema informativo sia fatto da Vianello e uno sia fatto da Michele. devono parlarsi, devono essere interoperabili. Attenzione, non riguarda solo le pubbliche amministratori ma anche i gestori di servizi pubblici. Quindi siccome molti di voi sono concedenti servizi pubblici e hanno molti concessionari, acqua, gas, rifiuti, trasporto pubblico locale e così via, anche il gestore di servizi pubblici deve mettere a vostra disposizione i dati che lui produce. Ovviamente quali? Quelli generati dalla gestione della concessione. Quindi i dati del trasporto pubblico locale, i dati dell'uso dell'acqua, i dati della qualità dell'aria, eccetera. Ovviamente questo avviene, poi vedrete in pratica come avviene questo, attraverso l'accreditamento. Quindi ti devi, ogni pubblica amministrazione, come vedete, è obbligata. Vedete i soggetti di cui all'articolo 2,2, cioè tutti voi siete tenuti ad accreditarvi alla piattaforma. È un obbligo. Quindi, prima domanda che dovete fare e non dovete demandarla al fornitore è verificare sulla piattaforma, poi vi faccio vedere dove, sulla piattaforma se siete o non siete iscritti. Perché molti di voi non lo sanno perché hanno dato questa incombenza al fornitore quando gli hanno affidato la realizzazione del bando PNRR. Ma l'accreditamento dovete farlo voi, peraltro si fa, lo fa il rappresentante legale dell'ente, cioè il signor sindaco che firma digitalmente ovviamente l'atto di accredito. Quindi, accreditamento, identificazione e gestione dei diversi livelli di autorizzazione. Perché, come vi dicevo prima, non è che può entrare chiunque. Entrano solo le figure che sono abilitate a questo. Non è che in NPR ci entra chiunque, dal protocollatore al messo notificatore a chi volete voi. Entrano i responsabili dei diversi servizi che per la loro attività istituzionale hanno bisogno, meglio, hanno il diritto di accedere ad una base dati chiamata da NPR. Ma questo va formalizzato. Quindi è un livello di autorizzazione. Ovviamente, come vi dicevo prima, essendo dati spesso sensibili e personali, voi vedrete raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate su tramite. Quindi tutto, come vi dicevo prima, va fatto un registro di trattamento dati personali. E questo va ovviamente raccolto, conservato, eccetera eccetera. Fin qua poi vedrete la condivisione informazioni attraverso la messa a disposizione e l'utilizzo da parte dei soggetti accreditati, quando voi vi iscrivete diventato un soggetto accreditato, di interfacce di programmazione delle applicazioni, cioè le famose API. Il fornitore del bando PNRR genera API, oppure utilizza API messe a disposizione, che ne so, dall'INPS piuttosto che dal Ministero dell'Interno. Quindi c'è una parte informatica. Il fornitore deve garantirvi la parte informatica. Quelli che chiamo io i bocchettoni, i punti d'accesso, i punti di scambio. Questo nessuno di voi, io per primo, ha le competenze per farlo, per svilupparlo. Questa è un'attività che deve fare il fornitore. Ma solo questo fa il fornitore. Il fornitore non può decidere di cosa voi fruite e di cosa voi offrite. Il PND è una sorta di mercato. Offri, ricevi, no? È il suc dei dati. Offri, ricevi. Ma quello di cui ha bisogno il Comune di Fornipopoli non lo può sicuramente decidere il fornitore. Lo dovete decidere voi. Il webinar di questa mattina è per darvi anche qualche spunto, perché almeno ti so come finisce. Il fornitore vi dà solo le robe che ha pronte lui e magari a voi servono assolutamente a nulla. Però abbiamo fatto il bando PNRR. Con questo non va assolutamente bene. Dovete essere coscienti. Il motivo del webinar di oggi. Allora, l'accesso alla piattaforma nazionale dati avviene, può avvenire da due luoghi. Il primo luogo è questo. Avviene attraverso Pago.pia, perché la piattaforma digitale nazionale dati è di proprietà, vabbè, una parola grande. Pago.pia è stata incaricata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di sviluppare e di conservare la piattaforma nazionale dati. Quindi voi potete fare un primo accesso, se volete, da società Pago.pia, che non è Pago.pia, per capirci, non è Pago.pia il modello di pagamento, è la società Pago.pia. Ok? Dentro la società Pago.pia, nella parte prodotti e servizi, vedete, prodotti e servizi, cliccando voi troverete a un certo punto la piattaforma digitale nazionale dati. E qui troverai vision del progetto, eccetera, eccetera. Come vedete, se sei un ente, aderisci. Quindi voi entrate da questa porticina, aderisci, e qui dentro ci sono tutte le domande, tutte le richieste, tutte le cose per poter aderire. Ovviamente se voi non siete iscritti, se siete iscritti vi dirà amico mio sei già iscritto, se non siete iscritti è chiaro che da qui dovrete fare tutto il procedimento. Qui in alto invece trovate l'area riservata agli enti. Quindi se siete iscritti voi entrate qui dentro, ci entra con spinta, è tanto per capirci. Meglio che l'adesione la faccia l'RTD. Ok? Ma siete piccoli comuni, quindi quella figura che importuniamo noi quando facciamo i nostri microprogetti, quella figura che deve entrare, si accredita, ovviamente poi dovrà mettere, postare l'atto di adesione firmato digitalmente dal rappresentante legale, cioè dal signor sindaco. Quindi voi ci siete dentro. Oppure, meglio ancora, e questo è poi il sito dove vi porterò dopo, questo HTTPS www.interop.pa.progetto. E qui dentro voi entrate proprio in una pagina che si chiama, non a caso, interoperabilità. Perché la piattaforma nazionale dati è strumento di interoperabilità. Anche in questa pagina ve la raccomando perché c'è anche tutta la documentazione, molto interessante. E ovviamente verso la fine di questa home page, ma poi ve lo faccio vedere, c'è il link per l'accesso per entrare o accreditarsi o ovviamente verificare. Qui sotto ci sono quattro finalità che vi fanno vedere come funziona. Quindi l'aderente, cioè a monte devi avere aderito, l'aderente richiede l'accesso a un servizio del catalogo. Vedete che qui c'è catalogo scritto, poi vi porterò dentro il catalogo, vi faccio vedere anche come funziona. Troverete il catalogo, dentro il catalogo tu individui quali sono le basi dati che ti possono interessare. Voglio entrare in ANPR, non attraverso l'ufficio anagrafe, sia chiaro, voglio entrare direttamente in ANPR, voglio entrare direttamente nell'INPS, voglio entrare nelle basi dati del Ministero dei Trasporti perché mi interessano le mappe, la cartografia del trasporto pubblico nella mia città, eccetera. Poi vi farò vedere, di base dati ce ne sono ormai qualche migliaio, cioè tante, 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 tante. Ovviamente una volta che tu hai fatto toc toc, fase 2 l'erogatore, nel caso di ANPR, il Ministero degli Interni, nel caso di ISEE, INPS, approva la tua richiesta, dice ok, puoi fruire e abiliti l'ente alla fruizione. Poi vi faccio vedere come funziona. Ovviamente una volta che lui ti ha concesso, devi dire per quale motivo intendi accedere alle informazioni. Sono l'ufficio, ovviamente ve lo metto in modo descrittivo, poi in realtà funziona molto più semplice, sono l'ufficio tributi del comune di Castel Maggiore, devo fare la mia campagna di accertamenti tributari e devo fare una verifica se tutto il mio indirizzario è corrispondente all'NPR. Perché come voi sapete, visto che poi utilizzerete SEND, SEND è interfacciata con ANPR, quindi anche voi dovete essere interfacciati con ANPR. Quindi il motivo istituzionale per il quale io accedo, chiedo di accedere, è l'interscambio di fruizione fra l'indirizzario di ANPR e il mio software di gestione e produzione tributi. Cosa che vi dico, ponete già da oggi i vostri fornitori, soprattutto se vi preparate ad andare in SEND, anche Polizia Municipale ad esempio. Peraltro avete interoperabilità attraverso ANPR sia con INAD, cioè con i domicili digitali dei liberi professionisti e delle imprese. E ovviamente una volta che tu hai avuto via libera il fruittore accede alle diverse formazioni. Avviene con queste quattro semplici modalità. Poi da un punto di vista tecnico, dove andate a questo vai alla documentazione, avete praticamente tutto. Vedete qui c'è documentazione, avete praticamente tutto. Le spiegazioni e anche la parte tecnologica ovviamente da condividere con il vostro fornitore. Fino a qua sono stato chiaro? Qualche domanda? Io vado avanti, siete liberi in ogni momento. La piattaforma digitale dati assicura prioritariamente interoperabilità. Vedete? Con il chat, chiarissimo, grazie Federica, con prioritariamente l'interoperabilità con le basi dati di interesse nazionale. Quindi lo scopo è garantire la vostra interoperabilità con tutte le basi dati di interesse nazionale. Quali sono le basi dati di interesse nazionale? Si finisce, base date di interesse nazionale, l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologie e contenute, la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici. Quindi vedete che c'è un ecosistema, cuore e tante vene e tante arterie, un vero e proprio ecosistema. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, la piattaforma nazionale dati è un sistema informativo unitario, quindi proprio il cuore, che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso delle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Quindi è finalmente la possibilità, senza perdere tempo, di andare in diretta, di scambiare fra di voi. Vi faccio un esempio che troverete, ad esempio, fra le cose da attivare da parte dei comuni. Molti di voi vanno in difficoltà se devono trasferire file di grande peso, per i quali sono obbligate a utilizzare la PEC, che ne so, alla regione. La vostra regione vuole tutto il pacone degli strumenti urbanistici, ma il pacone degli strumenti urbanistici che voi avevate fatto in carta e che avete virato in digitale pesa svariati mega, per cui la PEC, il vostro sistema PEC non lo sostiene più. Piattaforma nazionale dati consente di conferire in interoperabilità protocollati ciò che vi è stato chiesto dalla vostra regione. Ovviamente voi avrete abilitato l'API attraverso la quale spedite. La regola tecnica la trovate nell'allegato 6 delle linee guida Agid sul documento informatico e la vostra regione deve aver attivato l'API di ricezione. Quindi si parlano fra di loro. Non serve più che voi usiate la PEC. Usate un sistema di interoperabilità. È anche un modo sicuro per scambiare dati, dice giustamente Irene Torrenti, un modo sicuro di scambiare dati fra amministrazioni, infatti proprio quello che sta generando Michele. Cioè è un salto di qualità infinito. Oggi voi a volte usate Dropbox, non raccontatemi storie, avviene così. Oggi voi usate WeTransfer, ma non si può usarlo perché non sono considerati ambienti sicuri. Sono in mano a multinazionali, sono extra UE, non si potrebbe fare. Poi voi lo fate. Ma in realtà, come dice Irene, l'utilizzo della piattaforma nazionale dati consente lo scambio di dati in modalità sicura. Pensatela a una grande WeTransfer, la piattaforma nazionale dati. Protetta, sicura, con la privacy garantita, eccetera. Qui abbiamo quali erano in prima battuta coloro che dall'ottobre del 2022 hanno cominciato a mettere a disposizione i loro dati. Quando voi vedete questo, dite il ben di Dio. Quindi avete il repertorio nazionale dei dati territoriali, vedete NPR, la banca dati nazionale dei contratti pubblici, il casellario giudiziale, il registro delle imprese, gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e asilo. Quindi qua il sociale ha tutto quello che vuole. L'anagrafe nazionale degli esistiti, sempre sociale. L'anagrafe delle aziende agricole, voi potrebbe interessare mai. L'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Polizia municipale immediatamente. Sistema e attenzione, questa roba voi la fate gratuitamente, non più attraverso portali che negli anni vi hanno dato a pagamento i fornitori. Perché in questo momento, quando voi entrate in queste banche dati, grazie al vostro fornitore dovete pagarlo. Voi invece andate gratuitamente in NPR, scusate nel caso di NPR in NPR, in piattaforma nazionale dati per voi è gratis. Dove dovete fare un minimo di investimento, ma vi hanno dato i soldi PNRR e l'attivazione del connettore dell'API. Ma non è che spendete 10 milioni di dollari per un'API. Ve la calate con 2-3 mila euro massimo. Massimo. Ok? Quindi, archivio nazionale dei veicoli, sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, ecco la quali sei. L'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, questo ad esempio a uffici tributi, piuttosto che a polizia municipale è utilissimo. E poi i nostri, indice nazionale domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti, e cioè INIPEC, altri enti di diritto privato non tenuti iscrizioni a enti professionali sono che sono l'INAD. Attenzione che in interoperabilità potete chiedere anche di sviluppare i rapporti con l'IPA, cioè con l'indice delle pubbliche amministrazioni. Quindi senza uscire, rilincarsi, rientrare e così via, avete un unico sistema di erogazioni. Questo è il famoso bando, ahimè, scaduto, 1.3.1, piattaforma digitale nazionale data. Attenzione però, il bando, non ho capito onestamente perché, ha messo a disposizione i soldi per le API di conferimento. Quindi quando il vostro fornitore attiva il bando, il bando vi è asseverato, voi asseverate ciò che offrite. Attenzione che però il bando vi ha dato, non vi ha dato 2-3 mila euro, vi ha dato 13, 14, 15. Con il resto voi potete chiedere al fornitore di attivare anche le API di conferimento, cioè quello che volete dare voi. Quello che volete pescare, scusatemi. Prima fate ciò che volete dare, adesso vi do qualche dritta, poi dovete mettere ciò che voi volete invece importare e vedrete che di cose utili ce ne sono una marea. Qui vi ho messo questa pagina che è stata fatta, è un po' datata, è stata fatta nel febbraio ancora del 2023, quando è partito il bando. Su cinque casi d'uso comuni, come casi d'uso importanti per i comuni. Allora vedete, il primo è con INPS. INPS raccoglie tutti i dati utili nel sistema informativo unitario dei servizi sociali, cioè il SIUS. Vuol dire che i vostri servizi sociali in questo momento caricano quasi sempre manualmente. Invece, se voi erogate i vostri dati attraverso un API, trasmettete direttamente ad INPS, automaticamente a INPS, tutti i dati che voi producete in materia di SIUS. Da un punto di vista operativo abbatte il lavoro del vostro servizio sistemi sociali. Poi, cosa che può interessare molto l'ufficio tecnico, urbanistica, lavori pubblici, le API per i dati geografici, che permettono di consultare archivi di elementi che hanno una componente geografica. Quindi, tutta la condivisione in tempo reale di informazioni utili alla programmazione territoriale, alla protezione civile, all'ottimizzazione dei trasporti, dei percorsi, eccetera. Qui, ad esempio, può essere tutta la vostra cartografia. Piano del traffico, piano regolatore generale, se avete fatto cartografia in materia di ZTL, eccetera, eccetera. E qui c'è il tema degli atti protocollati, di cui parlavo io e di Irene prima. Tutti atti protocollati, anche quelli di grandi dimensioni. Una volta che sono stati protocollati, voi potete conferirli. Dall'altra parte c'è la presa in carico, quindi da protocollo a protocollo, di file di grandissime dimensioni. Pubblicazione degli atti di Albo Pretorio supporta sia la trasparenza sia la possibilità di aggregare i dati. Quindi tutto ciò che voi offrite attraverso Albo Pretorio può essere che sia fruito da altre pubbliche amministrazioni, peraltro aggregandole fra di loro. E anche qua il tema di Bidap e di Siope, che attualmente vengono quasi sempre caricate su Bidap e Siope, ma che invece possono essere pubblicate e scambiate anche attraverso API. Chiedete ai vostri fornitori, se non avete ancora fatto l'affidamento, ma in giro trovo ancora alcuni di voi che non hanno fatto l'affidamento. Chiedete, utilizzando questo, quali sono i dati di maggior interesse. Attenzione, quelli che offrite voi. Qui siamo a quelli che offrite voi. Dobbiamo però anche sviluppare quello che ci interessa, quello che noi portiamo a casa, cioè cosa dobbiamo portare a cara. Allora, segnalo a tutti voi, anche se risale a un anno fa e quindi dovreste già conoscerla, ma in giro onestamente nessuno di voi l'ha ancora attivata. Nessuno di voi l'ha ancora attivata. Quindi, con i resti del PNRR attivate anche questo. La base normativa è linee guida per l'accesso dei comuni ai dati a NPR attraverso piattaforma digitale dati. Vedete? In relazione a tale previsione si comunica che gli uffici dei comuni, diverso da quello anagrafico già collegato, quindi tutti gli altri, potranno accedere ai dati registrati in NPR tramite piattaforma digitale dati. Ok? Per aderire alla piattaforma digitali dati, utilizzarne le funzionalità in base alle linee guida sull'infrastruttura tecnologica da parte di Agit, e voi fate l'accordo di adesione con la società Pago Piace. È quando voi aderite alla piattaforma, la fase in cui voi aderite. Quindi, mettete da parte qualche soldo, anzi attivate qualche soldo e attivate l'API che vi farò vedere è già a disposizione, attraverso la quale il Ministero degli Interni consente a tutti i singoli uffici del Comune di accedere diversi dati, o per allineare ad esempio gli indirizzari, ma anche per semplice consultazione. Quindi, piattaforma nazionale dati serve sia per la consultazione che per l'interoperabilità. Entrambe, entrambe. Ok? Ovviamente la circolare alla quale vi rinvio, nel caso voi non ce l'abbiate, ce la chiedete, ve la mandiamo, non preoccupatevi, possiamo metterla anche fra i materiali a vostra disposizione. Vedete, questo ad esempio è l'allegato 2. L'allegato 1 è quello dove ci sono tutte le specifiche tecniche, è quello da dare al fornitore. L'allegato 2 è quello dove ufficio per ufficio vengono indicate le modalità, le finalità istituzionali che vi giustificano ad accedere ad NPR. Quindi, ad esempio, chi si occupa di scuola e pubblica istruzione può accedere direttamente ad NPR per finalità attività amministrativa connessa alla gestione delle domande di iscrizione, la gestione delle graduatorie, i certificati di frequenza, la tarifazione, il recupero dei credit, eccetera, i servizi sociali, sociosanitari, welfare, servizi connessi ai minori, agli anziani, alle famiglie, e così via. Per ognuno voi vedrete dei vostri uffici, comprese le biblioteche, per esempio voi vedrete l'attività delle biblioteche pubbliche finalizzate a verificare gli indirizzi di tutti gli iscritti quando date i tesserini o mandate le campagne di lettura. Ok, quindi troverete tutte le motivazioni istituzionali. È ovvio che voi per ogni vostro ufficio dovete trovare il responsabile, cioè chi accede, chi ha questa possibilità. Ok? Chi ha questa possibilità. E va creato il registro di trattamento dati. Ma questo si fa con semplici delibere di giunta, anzi consiglio che facciate un'apposita delibera di giunta dove voi abilitate alcune figure ad accedere a queste banche dati che via via voi metterete in pista. Ovvio che chi, le assistenti sociali, devono avere la possibilità di accedere a SIUS, cioè la banca dati INPS, le vostre assistenti sociali, sia chiaro. Ok? E questa, vedete, è il, diciamo, nel caso voi scegliate quella strada NPR, usate anche questa pagina. Potete usare anche questa pagina. Soprattutto la parte area tecnica dove ci sono, come vedete, anche tutte le tabelle di decodifica, la documentazione tecnica, eccetera, eccetera. Perché, insisto, non voglio sottovalutarvi, ma penso che nessuno di voi conosca, sia in grado, abbia le competenze per poter fare la parte informatica. Lì, piaccia o no, bisogna che attiviamo il nostro fornitore, che però deve utilizzare queste modalità, deve utilizzare queste specifiche. Quando noi andiamo ad alcuni esempi concreti, però fino ad ora un po' di concretezza ve l'ho già messa, e sia chiaro. Nel nuovo piano triennale per l'informatica, molti di voi, peraltro, stanno facendo con Formez, cioè con noi, il piano triennale per l'informatica, voi sapete che insistiamo tantissimo sul tema dell'interoperabilità. Interoperabilità, ovvero piattaforma nazionale dati, e lo indichiamo come una delle priorità. Qui voglio farvi qualche esempio concreto, il primo dei quali riguarda il bando 1.4.1, soprattutto la parte cittadino attivo, ovvero lo strumento, la piattaforma attraverso la quale Michele Vianello iscrive, identificandosi o con Spido, con carta d'identità digitale, iscrivo mio figlio a scuola. Quando io entro nella sezione dedicata alla compilazione, in realtà non devo compilare nulla, perché in base al principio once only, quella pagina deve essere interamente precompilata. Quindi il vostro sito, attraverso piattaforma nazionale dati, pesca direttamente da ANPR i dati che mi riguardano e anche quelli di mio figlio. Non peschi più i dati dell'identity provider, che non sempre sono corretti, peschi direttamente da ANPR. Come vedete, riferimento RSE 1.3, questo fatelo vedere, chiedetelo al vostro fornitore, filatevi di me, stressate il vostro fornitore su questo. I servizi digitali del sito comunale consentono di utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati digitali nazionali, ad esempio ANPR, e vi mette tutti i riferimenti normativi e tecnici che vanno rispettati, compreso il manuale documentazione del modello comunale. Quindi, siccome molti di voi stanno per mandare online i nuovi siti, verificate se è garantita interoperabilità. SRSE 1.4, once only interoperabilità. I servizi digitali del sito comunale rendono i dati interoperabili secondo la normativa vigente. Quindi, attenzione, è importantissimo. Se Vianello entra nel nuovo sito, vuole iscrivere suo figlio alla scuola materna utilizzando l'identificazione con SPID, io non devo compilare più nulla, perché tutti i dati che voi avete, io li devo già trovare pronti. Quindi tutti i miei dati anagrafici, dove sono nato, luogo di nascita, l'indirizzo, quello di mio figlio, bla, deve esserci tutto. Chiedete al fornitore di attivare questa interoperabilità, perché come vedete è in norma. Questo è il manuale per i bandi l'AMPSAM, quindi il manuale. Peraltro la nuova versione è uscita qualche giorno fa, quindi nella versione di qualche giorno fa è tutto riconfermato, perché sono disposizioni di legge, quindi vanno assolutamente fatte. Se non bastasse quello che vi ho detto fino ad ora, porto a tutti voi, alla vostra attenzione, la direttiva che è stata pubblicata nel dicembre del 2023, precisamente il 5 di dicembre 2023, ma ahimè resa nota fra gennaio e febbraio, è la direttiva firmata sotto segretario di Stato per conto della presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa direttiva è interamente dedicata alla piattaforma digitale nazionale dati e al tema dell'interoperabilità. Anche qua, se voi non ce l'avete, vi è sfuggita e così via, ci chiedete, ve la mettiamo fra un po' di materiali, così ce l'avete, peraltro già sottolineata da me, così trovate già anche le parti interessanti. E qui c'è la parte dispositiva, vorrei vedere un attimo con voi, perché vi fa capire l'importanza che dovete prestare al tema dell'uso della piattaforma. Vedete, i soggetti di cui è l'articolo 2,2 del CAD, cioè voi, ma anche le municipalizzate, provvedono all'adeguamento dei primi modelli di interoperabilità della piattaforma digitale dati. Ciascuna amministrazione individua entro 30 giorni l'attività da fare, loro parlano di strutture o gruppi di lavoro, ma voi siete piccoli, non ce la fate, quindi il tema è che l'RTD deve cominciare a farsi carico, vedete, di coordinare ogni iniziativa in materia di interoperabilità, con particolare riferimento. Sviluppo API e di services. piattaforma digitale dati, il bando PNRR di cui abbiamo parlato prima. Però loro dicono individuazione delle basi dati a cui accedere, quali soggetti fruitoni. Non basta che voi vi limitiate a offrire, dovete anche cominciare ad utilizzare. E quindi, poi vi farò vedere la piattaforma, sulla base di quella piattaforma. Cos'è che voi utilizzerete? Questo è il punto più importante e su questo dovete essere tosti nei confronti dei fornitori. Poi, valorizzazione dell'interoperabilità, ok? Quindi mettere a disposizione degli altri utilizzando i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale dati, con le basi dati di interesse nazionale, che sono quelle che vi ho fatto vedere prima. assicurando l'allineamento delle informazioni IVI contenute. L'indirizzario dell'ufficio tributi del comune di Vattelapesca è allineato ad NPR. Allineamento delle informazioni IVI contenute. Questo va detto al fornitore. Devi garantirmi l'allineamento. E vedete, costante allineamento degli archivi informatizzati delle amministrazioni di appartenenza con le anagrafiche contenute nell'anagrafe popolazione residente, avvalendosi dei servizi PND. Quindi vi fate fare i preventivi e cominciate ad attivare questo. Garanzia di circolarità mediante il codice identificativo univoco ID a NPR. Perché come voi sapete da un anno esatto, perché era proprio lo scorso anno, ognuno di voi noi, fate la verifica se volete, in NPR non è più identificato solo con il codice fiscale. Perché come voi sapete il garante privacy questo lo metteva giustamente in discussione. Ma con il codice con l'ID a NPR, che voi trovate, ognuno di voi nella sua area personale trova l'identificativo. Quindi compiti per casa, chiamare i fornitori e cominciare ad attivare questo. Perché come vedete questo è perentorio, bisogna farlo. Peraltro il Ministero mette anche il tema della responsabilità. E gli inadempienti, ovvero coloro che non mettono a disposizione o che mettono ostacolo alla disposizione, rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 18b del CAD. Ricordo a tutti noi che l'articolo 18b del CAD è quello che parla delle sanzioni per mancata transizione al digitale. Quindi il non attivare l'interoperabilità della piattaforma nazionale dati è considerato sanzionabile. Quindi attenzione, loro dicono noi ci mettiamo a vostra disposizione, vi aiutiamo, vi diamo una mano, ho le piattaforme e così via, ma ognuno di voi deve cominciare ad attivarlo. Quindi è opportuno che cominciate a porre questo tema. Ultima slide e poi andiamo al sito. Cosa chiedere ai fornitori? Bando PNRR individuare le basi dati che mettete a disposizione. Potete utilizzare quelle cinque proposte che vi ha fatto il Ministero per l'innovazione. Consiglierei perché alcune sono molto interessanti. però dovete anche individuare le basi dati delle quali volete fruire. Non solo la consultazione, ma come avete visto dalle slide precedenti e dal dispositivo del Ministero, anche l'integrazione. Cioè integrate le vostre banche dati della Polizia Municipale piuttosto che quelle dei tributi con ANPR. Devono essere strettamente integrate. Scelte, come vedete, io vi ho messo ANPR consigliatissimo, ma anche X importante. Qui c'è il come integrare. Secondo me vi dicevo prima, l'interoperabilità è un ecosistema fatto di tante parti. Le due che ci interessano in questo caso sono il modello di interoperabilità, il Moodle, definito da Agid, che descrive il perimetro dell'interoperabilità fra pubbliche amministrazioni. E sono le linee guida che tutti i fornitori dovrebbero conoscere, cioè devono conoscere, cioè la parte tecnologica. Ma come vedete, Piattaforma Nazionale Dati è un artefatto interno a quel perimetro, sta all'interno del perimetro di interoperabilità indicato dalle linee guida. Per poter integrare i vostri servizi piattaforma nazionali dati, bisogna che facciate una serie di passaggi. Va scritta l'API che dice cosa voi date e ovviamente questo lo deve fare il fornitore perché nessuno di voi è in grado di farlo o se siete in grado ve lo sconsiglio, lasciate perdere. Se l'ente non l'ha ancora fatto, dovete effettuare l'adesione a Piattaforma Nazionale Dati Interoperabilità. Va aggiunta l'API di controllo per verificare la legittimità e le validità dei voucher. Voucher sono le autorizzazioni che ti do per andare a prenderti i miei dati. Pubblicare sul catalogo di Piattaforma Nazionale Dati sotto forma di services tutto ciò che voi mettete a disposizione. E questa è, diciamo così, l'impostazione più generale. Ora interrompo la condivisione, vi porto nel sito e vi faccio vedere, è l'una, altri dieci minuti, vi faccio vedere alcune parti importanti della nostra piattaforma. Eccola qua. Questo è il sito della piattaforma. Vi metto anch'io, se ci riesco, meglio se lo fa Irene così andiamo meglio, il link di questa pagina. Ora voi vedete che all'interno di questo link c'è la parte che vi ho fatto vedere prima, gli obiettivi del progetto, attivare il principio del one's only, eccetera, eccetera, garantire la sicurezza delle informazioni, fornire il catalogo unico, cosa dice la legge, ma da dove si inizia? Eccola qua. Questa è la strada attraverso la quale voi aderite. Attenzione, dovete inviare attraverso questa strada il documento di adesione firmato dal legale rappresentante. Quindi da parte del sindaco, mi auguro si firmi digitalmente, cioè va firmato digitalmente. Ok? Questo è il punto. Qui vedete c'è il catalogo. Eccolo qua. Questo è il famoso catalogo di cui abbiamo parlato prima, ovvero tutto ciò che le amministrazioni hanno cominciato a pubblicare. Qui all'inizio voi troverete tanti comuni, perché sono quelli che come voi hanno fatto il bando PNRR e stanno offrendo protocollo. Vedete quello che vi dicevo prima? Servizio di protocollazione per interoperabilità. Questo comune di Malgrate, che peraltro è un piccolo comune, ha fatto questo. Varebbe proprio la pena di farlo anche da parte vostra. Poi ad esempio dati storici dei cittadini, e qui ce ne sono svariati, vedete. La prima parte sono tutti comuni. Questi sono bravissimi, addirittura l'IoT, cioè Internet of Things, che sono tanto, tanto, tanto avanti. Se però voi volete vedere i ministeri, voi ad esempio fate Ministero dell'Interno e qui dentro voi trovate, vedete, Ministero dell'Interno, Cerca, e qui vedete vi vengono esposti tutte le basi dati che il Ministero dell'Interno mette a vostra disposizione. Vedete che qui vedete anche NPR Certificazioni, Servizio per l'Emissione e Certificati Anagrafici. Qui c'è tutto. E qui cominciate a trovarlo. Ovviamente è un accesso riservato, cioè dovete essere iscritti ad Piattaforma Nazionale Dati e chiedere alla piattaforma di poter avere il permesso per accedere, eccetera. Qui ce ne sono il servizio dichiarazione esistente in vita. Cioè qui c'è praticamente di tutto. Vedete che ne avete una quantità. Ecco qua, ANPR Data Service. Qui proprio entrate, entrate proprio nel cuore. Proprio entrate nel cuore. Se volete, torniamo al Ministero dell'Interno e mettiamo, mettiamo INPS, che è l'altro che io vi ho detto, cerca. E qua vedete c'è di tutto. Qui il vostro ufficio sociale ha praticamente di tutto. Consultazioni di assegni mensili, consultazioni di assegni di nuclei, prestiti d'onore, trasporti, mobilità. C'è tutti quegli elementi dei quali i vostri uffici politici e sociali hanno bisogno per poter emettere, poter autorizzare finanziamenti, eccetera, eccetera. Da questo si arriva anche all'ISF. La cosa interessante sono i numeri di Piattaforma Nazionale Dati. Perché qui sono registrati, e questo è molto 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 interessante, coloro che hanno aderito. Perché non è fuffa, no? Ben 6.434 enti hanno aderito. Vedete che impennata c'è stata? L'impennata è importante perché qui sta a indicare molti dei comuni. Cioè molti di voi hanno cominciato a entrare. Però vedete, non so quali siano, ma hanno cominciato a entrare che enti privati potrebbero essere enti, siccome me l'aveva chiesto Irene, enti di diritto privato, cioè quelle quotate in borsa, che però sono tenute ad aderire per la stessa normativa alla Piattaforma Nazionale Dati. Quindi potrebbero essere tutte le municipalizzate, quasi sicuramente. Poi qui vedete ci sono le diverse tipologie. cosa ci interessa? Vedete enti solo fruitori, ma ci sono anche enti solo erogatori. 2700 hanno seguito il mio consiglio, ormai siamo a più di un terzo. Sono contemporaneamente fruitori ed erogatori. Ponetevi l'obiettivo di diventare sia fruitori che derogatori. Poi qui sotto c'è tutti gli services che sono stati pubblicati. 6.832 i services pubblicati. E sono, direi, tanti. Tanti, tanti, tanti. Quindi avete, come vi dico io, un bel ben di Dio. Chi è che pubblica più i services? Ministero Infrastrutture e Trasporti, ma anche Ministero dell'Interno. ANAC ne pubblica, l'Agenzia delle Entrate ne pubblica, un po' alla volta cominciate. Qui si sono enti. Comincerete ad essere fra voi. E qui ci sono tutte le connessioni. Come vedete stanno crescendo sempre di più. Più 800, cioè il 12.83% rispetto al mese precedente. Guardate, Ministero dell'Interno ha aperto, perché io vi ricordate ho messo Ministero dell'Interno perché ci interessava, ha 310 connessioni e qui si vede le diverse tipologie. Se voi vi studiate bene questa pagina vedrete che vi dà anche una serie di spunti. 161.000 sessioni di scambio. Vedete che la piattaforma ormai si sta utilizzando tantissimo. 161.000 sessioni di scambio. E vedete che SEND sta cominciando a diventare, cioè la piattaforma nazionale dati, sta cominciando a diventare servizio notifiche digitali, uno di quelli che vengono ormai maggiormente utilizzati. Cioè sono gli services che voi avete attivato tra il vostro protocollo e SEND quando voi avete aderito a SEND attraverso la nuova piattaforma nazionale dati. Direi che io vi ho raccontato tutto quello che dovevo raccontarvi. Qui trovate documentazione e c'è tutto quello che vi serve, le API, le utenze, come si utilizzano i voucher, i changelog eccetera eccetera, tutto ciò che voi potete, avete già oggi a vostra disposizione. Io qui mi fermo e sono a vostra disposizione per eventuali domande. Grazie Michele. Grazie a te. Veramente finalmente diciamo dopo tanti anni insomma avendo un po' di anni alle spalle questo concetto di interoperabilità sta assumendo un po' di concretezza. Prima era soltanto una cosa assolutamente informatica di cui si riusciva come dire lontanamente a capire che c'era qualcosa. Adesso come dire c'è finalmente diciamo una concretezza di servizi che si possono realizzare, di cose che si possono ottenere più facilmente insomma quindi è veramente un grande passo avanti e credo che veramente sia una grande opportunità per tutti quanti. Non so se ci sono domande, se colleghi che sono hanno qualcosa insomma di particolare da chiedere e se no insomma andiamo avanti, vi faccio soltanto diciamo vi rimando. Allora non abbiamo ancora programmato. Allora chiudo. Puoi chiudere un attimo la condivisione così faccio vedere i colleghi. Sì scusami. Grazie. Eccoci scusami te. Eccomi qua. Allora vi ricordo insomma intanto le poche cose insomma da ricordare e ovviamente sapete che vi stiamo insomma via via contattando quindi se qualcuno di voi insomma avesse necessità di un confronto diciamo così con noi a breve naturalmente si faccia sentire. Queste sono le nostre diciamo le nostre mail insomma potete trovarci qui insomma vi risponderemo. Stiamo appunto avviando i contatti con i comuni attraverso le nostre task force territoriali e lo stiamo facendo progressivamente quindi potrebbe esserci ancora qualcuno di voi che non è stato contattato ma insomma noi siamo a disposizione per fare quello che insomma ci siamo prefissi di fare insieme. Non abbiamo ancora un quadro degli argomenti dei prossimi webinar, lo stiamo costruendo quindi comunque se aveste voi anche diciamo delle curiosità, delle cose che volete approfondire insomma nell'ambito insomma di queste di quello che ci è possibile fare insomma ecco proponetecelo perché insomma sono sicuramente cose gradite. Un'altra cosa che alla fine vi ricordo sempre che alla fine di questo webinar sarete poi rinviati su una pagina dove potrete esprimere diciamo il vostro gradimento sull'organizzazione di questa giornata, sulla relazione, sui temi e anche diciamo eventualmente proporci anche lì diciamo che questa può essere la sede dove farci delle proposte. Una cosa nuova perché abbiamo un po' verificato che noi sapete che mettiamo a disposizione diciamo nelle notizie che pubblichiamo sul sito di territori in rete, sul focus tematico scusate del nostro sito Formez, territori in rete, pubblichiamo le notizie con cui appunto diamo notizia per l'appunto di questi webinar e lì pubblichiamo anche le presentazioni dei vari relatori e ci sono disponibili diciamo insomma lì domani generalmente sono disponibili le registrazioni dei webinar quindi insomma se voleste anche voi risentirle o segnalarle ad altri potete trovarle su quella pagina. Abbiamo pensato dato che poi non era diciamo facilissimo trovare queste cose di creare una specie di piccola di notizia sul nostro sito Formez che in qualche modo raccoglie un po' quello che abbiamo fatto. ho messo qui il link quindi comunque troverete questa slide diciamo sulla sulla notizia e poi da lì potete navigare e comunque potete prenderne nota. Ve la faccio vedere un attimo per farvi vedere diciamo che cosa che cosa contiene. E diciamo appunto è un po' una notizia che raccoglie un po' tutto nel senso che ci sono qui diciamo le attività la metodologia che stiamo usando per fast abbiamo riportato qui l'infografica che vi avevamo forse elencato nelle la volta scorsa in cui definiamo un pochino più schematicamente qual è il nostro modo di lavorare diciamo e quelli che sono i nostri non si vede la pagina. Ah non si vede? Non vedete? Stiamo vedendo la slide. grazie di avermelo detto perché appunto allora eccola qua scusate perché avevo condiviso schermo. Grazie Claudio e adesso credo che la possiate vedere. Quindi questa è sempre sul nostro sito Formez quindi come vi dicevo riassume un po' la metodologia, le nostre attività. Sono qui diciamo questa è l'ultima notizia pubblicata relativa a questo webinar di oggi quindi qui troverete la registrazione, troverete la presentazione di Michele e queste sono le altre notizie quindi anche qui diciamo troverete i vari webinar e qui ci sono dei documenti che via via diciamo abbiamo reso disponibili e anche le schede per esempio di microprogetti che un po' riassumono quelli che sono i contenuti diciamo dei microprogetti che possiamo diciamo realizzare con voi. Ci sono i nostri contatti più oltre appunto sono riportati direttamente gli ultimi diciamo due webinar e qua sotto c'è un avanzamento dell'attività con i vari comuni che hanno già cominciato a lavorare con voi quindi è un po' una notizia che racchiude un po' quello che diciamo intendiamo fare e che insomma abbiamo fatto ad oggi quindi può essere insomma utile come punto di informativo per voi tutti anche per passarla insomma eventualmente ad altre persone anche all'interno della vostra amministrazione per far conoscere diciamo quello che magari state facendo e insomma non è condiviso insomma con anche con l'apparato politico con chi ritenete. Allora io diciamo a parte questo appunto vi ricordo appunto di compilare il questionario di gradimento e se non ci sono altre domande siamo un pochino in anticipo insomma rispetto ai tempi se non avete altre altre considerazioni altre cose direi che possiamo possiamo chiudere e naturalmente insomma daremo vi daremo notizia insomma di eventuali prossimi webinar e sul attraverso insomma i nostri soliti inviti e con le notizie sul nostro sito se anche Michele non so se appunto gli altri colleghi non hanno altro da aggiungere se no ci salutiamo e ci auguriamo buon pranzo buon week e un buon fine settimana allora grazie a tutti grazie di nuovo a tutti allora arrivederci pa presto buon pomeriggio